Luigi Pirandello. Novelli per un anno. Una scelta. Capitolo 1. Il treno ha fischiato. Povero Belluca. Belluca lavora in un ufficio. Il suo compito è fare i conti. I suoi colleghi lo guardano e pensano. Guarda Belluca. Pensa solo ai conti. Belluca sa fare solo questo. Lui è sempre buono e tranquillo. Spesso il direttore lo tratta male, malissimo. A volte anche con pugni e calci. Lo fa spesso per ridere, per vedere se fa qualcosa, se risponde. Lui sta zitto. Perché non risponde? Non lo sappiamo. Forse ha paura. Forse non sente più niente. È normale. Sappiamo una cosa. È sempre lì, a lavorare. In silenzio. Ma un giorno ecco una cosa incredibile. Arriva con mezz'ora di ritardo. Belluca arriva in ritardo. È la prima volta. Non solo. Ha un'aria strana, nuova. Si mette seduto davanti al suo tavolo. Ma quel giorno non lavora. Non fa niente. I suoi colleghi lo guardano e pensano. Che cosa fa? La sera arriva il suo capo. Entra in ufficio e vede che non ha fatto nulla. E come mai? Belluca sorride e apre le mani, ma non dice niente. Che significa? Il treno, direttore. Il treno? Che treno? Il treno ha fischiato. Il treno? Sì, sì, direttore. E così sono andato subito in Siberia, oppure nelle foreste del Congo. In un attimo, direttore. Tutti ridono. Tutti, ma non il direttore. Questa volta non lo tratta male per gioco. Questa volta il direttore ha un motivo. Belluca si è comportato male, malissimo. Non ha lavorato e dice queste cose senza senso. Comincia a picchiare la sua vittima, la solita vittima dei suoi soliti scherzi. Ma quel giorno è diverso perché Belluca risponde. Grida che il treno ha fischiato e ora il suo capo non lo può più trattare male. I suoi colleghi lo fermano subito e lo portano all'ospedale dei Matti, mentre lui fischia e dice, partiamo, partiamo. Signori, per dove? Per dove? I suoi occhi sono cambiati. Ora sono vivi, come gli occhi di un bambino o di un uomo felice. Ha sempre pensato solo a documenti, a numeri, a conti. Ora è un poeta. Parla di azzurre montagne nevose. Arriva all'ospedale. I dottori lo guardano e dicono, ha la febbre alla testa. Parlano, parlano tra loro e lo guardano. Un dottore dice una cosa, uno un'altra. Un medico pensa ad una malattia, uno ad un'altra. Tutti i suoi colleghi vanno in ospedale per sapere come sta. Vogliono sembrare tristi, ma forse sono contenti per aver fatto questa buona azione. E tutti, mentre tornano a casa, ripetono quello che hanno detto i dottori. Febbre alla testa. Uno chiede ad un altro, è matto? Muore? Ma morire? No, il dottore dice di no. Ma che dice? Che dice? Sempre le stesse cose. Dice che il treno ha fischiato. E continua a fischiare anche lui. Povero belluca. I suoi colleghi raccontano questa storia anche a me. E io gli rispondo, state tranquilli, signori. Io conosco belluca. Non è matto. Non è diventato matto. Non so cosa gli è successo, ma sicuramente non è matto. Io vivo vicino alla casa di belluca. Lo conosco da tanto tempo. Ho sentito dolore per lui, ma nessuna sorpresa. Se una persona vive come vive lui, ogni cosa, anche un sasso lungo la strada, può avere effetti straordinari. Tutte le persone che abitano vicino a belluca pensano sempre, come fa a vivere così? Quindi, se vogliamo capire perché ora è malato, dobbiamo pensare alle sue condizioni di vita. Belluca vive con la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Queste persone sono cieche, tutte. Hanno sempre bisogno di aiuto. E non solo, ha anche due figlie. Si sono sposate, ma i mariti sono morti e loro sono subito ritornati a vivere a casa. Una con quattro bambini, l'altra con tre bambini. Queste figlie sono un aiuto per il povero belluca? No, no. Loro aiutano solo la madre e solo quando vogliono. Lui no. Lui deve pensare a tutti. Nessuno ha un lavoro e lui deve guadagnare per dare cibo a cinque donne e sette bambini. Il suo stipendio è poco, non basta. Per questo cerca sempre altri lavori. Ogni sera torna a casa con del lavoro in più. Documenti da copiare per avere un po' più di denaro. Entra in casa e cosa ascolta sempre? Solo tante grida, litigi, pianti, tazze e piatti rotti. Litigano perché dodici persone devono e vogliono dormire, ma ci sono solo tre lenti. Non è facile per lui copiare i documenti con tutto questo rumore. Solo dopo molte ore torna il silenzio. Tutti finalmente dormono. Ora belluca, può davvero iniziare a lavorare. Lavora, lavora, poi la penna cade sul tavolo e lui, molto stanco, va a dormire su un divano vecchio e brutto. Da tanti anni ha dimenticato completamente che il mondo intorno a lui esiste. Questa, questa è la sua vita. Quel giorno vado anch'io a salutare Belluca in ospedale per vedere come sta. Ha ancora occhi strani e vivi, ma è normale, normalissimo. Ride, ride perché tutti i medici, infermieri e colleghi dicono che è matto. Ciao Belluca, che è successo? Sei veramente diventato matto? No, no, purtroppo. Cominciamo così a parlare e mi racconta che una notte, due giorni fa, due giorni fa Belluca va a dormire, come al solito, sul divano. È molto stanco, ma stranamente non ha subito sonno. E così all'improvviso, nel silenzio profondo della notte, sente da lontano fischiare un treno. Non potete immaginare che emozione unica per lui. Il fischio di quel treno ha aperto di nuovo il mondo chiuso di Belluca. Fermo sul suo letto, decide di seguire con la mente quel treno. Dentro la sua casa c'è solo povertà, tristezza, problemi. Fuori, fuori c'è il mondo. Firenze, Bologna, Torino, Venezia. In queste città c'è stato, tanti anni fa. Ora le immagina di nuovo. Le vede di nuovo. E poi ci sono montagne bellissime. Le vede, le vede, le azzurre montagne nevose. Ci sono veramente. Capisce che il mondo è andato avanti. Gli uomini, tutti gli uomini vicini a lui o lontani, hanno continuato a vivere. Lui no. Lui vive come un animale da lavoro, da tanti anni, chiuso nella sua casa e nel suo ufficio. Ha dimenticato il mondo esterno, ha dimenticato di vivere. Ma ora, grazie a quel fischio, quel mondo è tornato da lui. Ecco cosa è successo a Belluca. Si è ubriacato di vita. E vuole continuare. Quante cose ha perso in questi anni. Quanta bellezza. Quanta vita. Certo dobbiamo dire che la sua condizione alla fine di questa storia non è cambiata di molto. È uscito dall'ospedale. È tornato a casa. Ha i problemi di sempre. È tornato al lavoro. Ha chiesto scusa al direttore. Si è seduto al suo posto e ha iniziato a lavorare come ogni giorno. Ma adesso ha una consolazione. Ogni tanto può fermarsi, alzare la testa, fare un respiro e viaggiare in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Il suo capo deve accettare questi viaggi di Belluca. Sono il suo modo per ubriacarsi un po' di vita. Facciamo in un attimo, direttore, ora che il treno ha fischiato. Capitolo 2. Marsina stretta. Di solito il professor Gori ha molta pazienza con la vecchia domestica. È con lui da vent'anni. Questa volta però, per la prima volta, il professore deve mettere la marsina ed è nervoso. La mette solo perché deve farlo. E non gli piace essere nervoso solo perché deve mettere un vestito. E poi, Dio mio, con quel corpo grosso che ha! Naturalmente la marsina non è sua. Il signore del negozio di vestiti sotto la sua casa ne ha portate tante per farle provare al professor Gori. Lo guarda, sorride sicuro, lo fa girare da una parte all'altra. Pardon? Pardon? No, non va. E il professore si lamenta e suda. Ha già provato otto, nove marsine. No, anche di più. Tutte strette. Poi finalmente il signore del negozio dice, ecco, questa sì. È perfetta, signore. Anche la domestica è d'accordo. Un disegno, un disegno. Lui si guarda, guarda la marsina, guarda il signore e gli dice, ne ha altre? Ne ho portate dodici, signore. E questa è l'ultima? L'ultima. E allora va molto bene. È più stretta delle altre. Il signore se ne va e il professore guarda il biglietto sopra il tavolo e sbuffa di nuovo. La festa è per le otto in casa della sposa, in via Milano. 20 minuti a piedi. E sono già le 7 e un quarto. Torna dalla domestica. Zitta, prova a mettermi la cravatta. Dopo 5 minuti di silenzio... Fatto? E ancora un po' di pazienza. Lo faccio io, dice allora sempre più nervoso il professore. Ma fa un movimento troppo forte e... Trac! La marsina si rompe sotto il braccio. Provo a sistemare, dice la domestica. Non ho più tempo, risponde il professore. Mette la cravatta e il cappotto. Però di sicuro è contento. Va al matrimonio di una sua ex studentessa, Cesara Reis. Le ha sempre voluto bene e grazie a lui, dopo tante fatiche negli anni della scuola, oggi si sposa. Una volta un ricco signore vedovo è andato da Gori per chiedere un consiglio su una ragazza per educare le sue bambine. Come si chiama questo signore? Grimi? Griti? No, Mitri. Ah, è così. Mitri, Mitri. Pensa Gori mentre cammina. Lui gli ha indicato Cesara Reis e così è nato questo matrimonio. La Reis ha perso il padre a 15 anni e da quel giorno ha dovuto studiare e lavorare per pensare a lei e alla sua vecchia madre. Ha trovato anche un lavoro a Roma, in una scuola, sempre grazie al professor Gori. Ma la ragazza non ha accettato per avere cura della mamma e per paura di quello che può dire la gente. È una bella ragazza, Cesara. Una bellezza dolce e nobile. Grimi? Eh sì, si chiama Grimi, non Mitri. Grimi si è innamorato subito di questa ragazza. Lei per tre o quattro volte gli ha detto di no. Poi alla fine Grimi ha chiesto al professor Gori di aiutarlo. Gori è stato felicissimo e alla fine Cesara ha accettato. E così oggi c'è il matrimonio. Anche se i parenti del signor Grimi o Griti o Mitri non vogliono. E anche per questo il professor Gori è nervoso e arrabbiato. Arrivato in via Milano vede davanti alla porta tante persone. Forse è tardi, forse è già cominciata la festa, ma perché tutti lo guardano strano. Forse è la marsina rotta. Si vede? No, non si vede ancora. E allora, cosa è successo? Perché la porta è quasi chiusa? Il portinaio gli dice, il matrimonio non c'è più. Come? La povera signora, la madre. Morta? Urla Gori. Questa notte, all'improvviso. Il professore resta lì, fermo come un pezzo di legno. Possibile. La madre, la signora Reis. Ha in mano dei fiori. Gli cadono, ma li lascia in terra. La marsina può rompersi ancora di più. Per un attimo non sa che fare, poi sale le scale. All'inizio velocemente, alla fine con tanta fatica. Entra in una stanza, vede tanti parenti dello sposo e capisce che lo guardano con fastidio. Ci sono zii, cugini, una signora vecchia, forse la madre dello sposo. Poi vede un signore che sembra proprio lo sposo. Signor Grimi. Migri, prego. Ah già, Migri. Sono il professor Fabio Gori, si ricorda? Il signor Migri non risponde subito, ma lo guarda, freddo. Ah, Gori. Mio fratello mi ha parlato di lei. Dobbiamo ringraziare lei per questo matrimonio. Ah, lei è il fratello dello sposo, Carlo Migri. Beh sì, sono stato io che le presento mia madre. Mamma, questo è il professor Gori, quello che ha voluto il matrimonio di Andrea. In verità, io ho voluto solo dare un insegnante alle mie nipoti. Bravissima ragazza, comunque noi siamo molto tristi oggi per la morte della mamma. Sembra veramente la volontà di Dio. Gori guarda in giro e chiede. E lo sposo, il signor Andrea? Ma non so, risponde il fratello. Forse è andato a prepararsi. Ah, il matrimonio si celebra lo stesso? No, che dice, con la morta in casa? Oddio, risponde la vecchia signora. Prepararsi per partire, dice il fratello. Parte per Torino, per lavoro. Parte oggi? Deve farlo, abbiamo deciso noi. Non va bene ora per lui stare qui. Qui, con la ragazza, sola, non sposata, dice la vecchia. Nella stanza tutti sono d'accordo. La vecchia continua. Il matrimonio è stata un'idea troppo veloce. Ora non si sposa. Ora ci possiamo pensare. Il professor Gori non sa cosa dire, cosa fare. Questo dialogo, questo dire e non dire della signora e dei parenti, gli dà fastidio più della marsina stretta. E ha paura che, come la marsina si può rompere del tutto, anche lui può perdere la pazienza e dire a quei signori quello che pensa. Dov'è la sposa? Posso vederla? In quella stanza, vada pure, gli rispondono freddi. Il professor Gori ci va subito, molto nervoso. Vede prima il corpo della madre morta, sul letto. E per terra, la figlia, che non piange più, ha finito le lacrime e non sa più cosa deve fare, cosa deve pensare. Il professor Gori, quando la vede così, sente quasi più fastidio che tristezza. Vuole dirle, che fai? Alzati, non accettare l'ipocrisia di tutte quelle persone. Vuole prenderla e portarla comunque al matrimonio, ma non ha ancora la forza di fare nulla. Quando però lei lo vede e, senza parlare, gli fa vedere la madre morta, lui risponde con rabbia. Sì, cara, sì, ma tu alzati, subito. Perché? Ascolta, figlia mia, non è ora di piangere. Tu sei rimasta sola e devi aiutarti da sola. Prendi tutta la forza che hai e fai quello che ti dico io. Metti il vestito, il cappello e vieni con me. Dove? In municipio e poi in chiesa. Devi sposarti anche se tua madre è morta. Lascia qui la tua povera mamma per ora. Anche lei lo vuole. Impossibile, professore. Per me è finita, lo so. Lui va via, non torna più, mi abbandona, ma non posso. E cosa fai? Non hai più il lavoro, non hai più nessuno. Tua madre non vuole questo. E lei è stata contenta del matrimonio e oggi per lei non ti sposi? Dai, Cesara, vai a mettere l'abito, figlia mia, senza perdere tempo. Mentre lei si mette il vestito, lui chiude la porta della camera e chiede agli ospiti con voce forte e sicura. Non è ancora arrivato lo sposo? I parenti lo guardano e migri domanda con falso interesse. Si sente male la signorina? Sta benissimo, risponde il professore mentre guarda migri negli occhi. Anzi, ho il piacere di dire a tutti che lei ha deciso di sposarsi. Siamo tutti qua, tutto è pronto, basta andare in municipio e... No, non è possibile che mio figlio inizia a parlare la vecchia signora. Suo figlio non deve fare il suo dovere e una buona azione? Dobbiamo fare questo matrimonio anche se la ragazza è triste per la morte della mamma e anche se... Parla e si muove, si muove e la marsina è sempre più stretta. Con una mano rompe la manica della marsina e la lancia in aria. Anche se questa manica mi ha dato fastidio fino ad ora. Lei scherza? Risponde migri. No, per niente. In quel momento arriva lo sposo. Tutti dicono, no Andrea, no. Ma il professor Gori lo chiama subito e gli domanda, signora Andrea, ho convinto la signora Reis ad essere forte e sposarsi comunque. Senza matrimonio la vita di Cesara è rovinata. Se volete possiamo andare subito in municipio. Lei è d'accordo, no? Ma io sì, se Cesara vuole. Vuole, vuole! Ecco finalmente una parola che esce dal cuore. Gori chiede ad alcune persone di prendere i fiori della morte e portarli in municipio. Poco dopo entra Cesara. Lo sposo le prende subito la mano. Il professor Gori sta quasi per piangere. Gli sposi e tutti vanno senza parlare verso il municipio. Quando arrivano, Gori si toglie il cappotto e tutti ridono. Anche Cesara. La manica della marsina non c'è più. Mentre torna a casa sua, Gori comincia a pensare, ah, la vittoria di oggi su quelle persone. Come ho fatto? Di solito non sono così forte, ma oggi, forse è stato il fastidio per quella marsina stretta. Sì, devo ringraziare la marsina. Capitolo 3. La patente. Il giudice D'Andrea vive in modo strano. Qualche persona ogni tanto lo dice anche a lui e così risponde, ah, figlio caro. Porta sulle spalle sembra un peso molto, molto grande. Cammina anche in modo strano, ma nessuno è così bravo come persona come il giudice D'Andrea. Il giudice ha 40 anni e ha un problema. La notte non può dormire. Allora pensa, pensa a tante cose, a tante persone. Pensa sempre mentre guarda le stelle, dalla finestra. I suoi pensieri della notte sono importanti, troppo importanti per lui. Poi la mattina dopo si sveglia e sa che deve ritornare, come giudice, ai piccoli uomini, buoni e cattivi di ogni giorno. È anche un gran lavoratore, il giudice D'Andrea, non dimentica nessun dossier sul suo tavolo. Se non ha finito, cena due ore più tardi o non fa la sua passeggiata con i colleghi. Ma è incredibile, per la prima volta da una settimana un dossier dorme sul tavolo del giudice D'Andrea. Lui lo sa e per questo è ancora più nervoso. Ma non vuole iniziarlo quel processo. Da una settimana è lì, in attesa. Anche il giudice sta lì, sulla sedia, sembra dormire. Poi, per un piccolo rumore, apre gli occhi, guarda i fogli sul tavolo e respira forte. Non sa che fare perché quel processo non è giusto. Lo ha chiesto un signore disgraziato che certamente non può vincere. Per il giudice la giustizia in questo caso è falsa. Quel disgraziato non può arrabbiarsi con nessuno. Non si può fare nulla per lui. Qualche volta il giudice con i suoi colleghi prova a parlare di questo caso, ma quando dice il nome del signor Chiarchiero, loro cambiano faccia. E subito uno si mette le mani in tasca, uno tocca un oggetto di ferro, uno fa le corna. Qualcuno semplicemente gli dice, il nome del cielo vuoi stare zitto. Ma non può stare zitto, il magro giudice D'Andrea. E poco dopo torna di nuovo a parlare del povero Chiarchiero. Non pensa ad altro. Solo a questo. Un oiettatore che chiede un processo contro due persone che hanno fatto le corna davanti a lui. Come può vincere? Da molti anni è famoso come iettatore nel paese. I due signori possono perdere il processo solo perché fanno le corna quando lui passa? D'Andrea è ancora più nervoso quando incontra gli avvocati dei due signori. Il magrissimo Grigli e il grasso Manin Baracca che mentre ride mostra un grande corno appena comprato e dice che questo processo è una grande festa per tutte le persone del paese. Ma il giudice D'Andrea non vuole la festa. Per questo chiama Chiarchiero nel suo ufficio. Chiarchiero deve rinunciare al processo perché non può vincerlo e dopo i problemi possono solo crescere. Ma non è facile fare il bene e il giudice D'Andrea capisce questo molto presto quando Chiarchiero entra nel suo ufficio. Il giudice lo guarda e si arrabbia subito. Si alza in piedi e grida ma per piacere che cosa volete fare? Chiarchiero si è vestito esattamente come un oiettatore. Barba lunga, occhiali nerissimi, rotondi per sembrare un gufo e un abito largo e naturalmente nero. Quando il giudice grida lui resta calmo. Respira forte, fa vedere i denti gialli e dice sottovoce Lei non crede alla sfortuna? Ma per niente! Non giochiamo caro Chiarchiero! È matto? Si sieda. Vuole mettergli anche una mano sulla spalla ma Chiarchiero non vuole. No, signor giudice, non mi tocchi. Meglio di no. O lei come vero Dio diventa cieco. Il giudice lo guarda per un po', freddo e poi dice Io sono qui per il suo bene. Là c'è una sedia. Si sieda. Chiarchiero si siede, poi risponde al giudice. Per il mio bene? Lei pensa di fare il mio bene solo perché dice che io non sono un oiettatore? Va bene, allora dico che anche io credo a questa storia. Va bene così? No, risponde Chiarchiero, più serio che mai. Lei deve crederci veramente e deve fare il processo. Questo è un po' difficile, sorride in modo amaro d'Andrea. Il processo non è la cosa migliore per lei, soprattutto se poi lei si veste così. Non è vero, signor giudice? Come no? Prima chiede un processo contro due giovani perché dicono che lei è un oiettatore e poi lei viene qui vestito come un oiettatore e dice che anche io devo crederci. Sì. E non è strano questo? Signor giudice, lei non capisce niente. Il giudice non sa più che cosa pensare. Forse ha ragione, ma mi dica perché io non capisco niente? Lei sa che i due giovani hanno un avvocato, ma non in baracca. Sì, questo lo so. Ma non sa che io ho dato a baracca le prove? Non solo le prove di cosa fanno i due giovani quando mi vedono, ma anche le prove e i documenti di cosa io ho il potere di fare come oiettatore. Voi, da baracca, e perché? Ma capisco meno di prima. Avete dato le prove contro di voi? E allora perché volete il processo? Chiarchiaro si alza, allarga le braccia e grida. Ma perché io voglio perdere il processo? Voglio, signor giudice, un documento. Un documento dove è scritto che io ho questo potere. Questo potere ora, signor giudice, è l'unica ricchezza che ho. Povero caro, chiaro caro mio, una bella ricchezza. E cosa fai poi con questo documento? Cosa faccio? Lei, per fare il giudice, anche se non è molto bravo, ha preso una laurea, vero? La laurea, sì. E io voglio la laurea da iettatore, la mia patente, con la firma del tribunale del re. E poi? Signor giudice, mi hanno ucciso. Non lavoro più, mi hanno mandato via dal mio ufficio perché alcuni dicono che sono un oiettatore. Ho una moglie molto malata e due figlie, che non possono trovare marito perché sono figlie di un oiettatore. E allora posso fare solo questo come lavoro ormai? Il lavoro di iettatore. E ho bisogno della patente. E poi? E poi? Ci sono tante case da gioco in questo paese. Mi metto vicino alla porta, loro mi pagano e io vado via. Poi mi metto vicino a un'altra casa, poi mi metto vicino ai bar, ai negozi. Questo, questo solo può essere il mio lavoro. Tutti mi pagheranno. La loro ignoranza che è stata la mia rovina deve essere il mio futuro. Mentre Chiarchiero parla, il signor giudice ha la testa tra le mani. Chiarchiero finisce di parlare, ma il giudice non ha parole. Cosa può dire? È triste. Allora abbraccia Chiarchiero. Lo stringe forte per tanto tempo. Signor giudice, mi vuole veramente bene. Allora deve fare il processo e io devo perdere. La patente. Chiarchiero si alza, batte il bastone e con una faccia molto seria risponde la patente. Capitolo 4. Il professor terremoto. Se oggi andate a Reggio Calabria o a Messina, avete la fortuna di vedere queste città di nuovo belle. E non potete immaginare come sono state queste città per tanti, tanti anni dopo il terremoto del 28 dicembre 1908. Io le ho viste pochi mesi dopo quel triste giorno. Prima il bel verde degli alberi, i fiori di aranci e limoni. Poi, dopo una curva, ho visto la tristezza di quelle città distrutte. Vicino a me sul treno ci sono altri signori. Insieme cominciamo a parlare, ovviamente, del terremoto. Tutti sono d'accordo. I lavori non vanno bene, le macerie sono ancora quasi tutte lì. Poi hanno cominciato a parlare, a dire belle e brutte storie su quella notte del 28 dicembre, a parlare di persone che sono morte, persone che hanno fatto grandi azioni, azioni da eroi. C'è anche un signore molto magro, con la barba. Ascolta con molta attenzione quelle storie. Le ascolta e si muove. Non può stare fermo. Però qualche volta durante la storia dice una parola. Lo guardiamo anche un po' arrabbiati, perché quella parola in quel momento è molto strana. Se l'eroe della storia è un uomo, si alza e dice, disgraziato. Se è una donna, disgraziata. Poi un ragazzo in silenzio da molto tempo gli chiede, scusi, ma perché sono disgraziati? Il signore con la barba, si vede, è molto contento. Da molto aspetta questa domanda. Inizia a parlare in modo molto nervoso. Perché? Io lo so perché, caro signore. Lei si arrabbia, è vero? Anche lei ha sognato di essere lì, a Messina, restare vivo e salvare, non so, una ragazza? Cinque bambini, tre vecchi, eh? Parlo bene? Un eroe. Diciamo la verità. Ma caro signore, caro signore, se ha salvato qualcuno, lei non può essere qui, tranquillo, forte, come adesso. Non è così, caro signore. No, dopo che ha fatto un'azione da eroe, lei è come me. Mi vede? Forse voi tutti non lo vedete, ma io sono un disgraziato. E lei vuole essere un eroe? Un disgraziato? L'uomo si siede di nuovo in silenzio. Anche noi non sappiamo più cosa dire. Dopo un po', l'uomo sembra aver di nuovo voglia di parlare. Vuole il mio posto? Chiede al giovane. No, perché? Perché qualche volta noi diciamo ad un'altra persona che sbaglia, ma solo perché ci piace il posto dove sta. Il giovane ride e risponde. No, non voglio il suo posto. Secondo me, se uno fa un'azione bella, eroica, non è un disgraziato. No, risponde l'uomo con la barba. Ascoltate questa storia vera. Ho conosciuto una signora malata da tanti anni, quasi non può camminare. Vive sempre sola con i suoi quattro bambini perché il marito lavora lontano. Sapete cosa ha fatto la notte del terremoto? Ha preso i suoi quattro bambini e li ha portati fuori casa, ancora vivi. E sapete come? Lei abita al terzo piano. Sale, prende un bambino e scende per i tetti in un modo che un gatto non può fare. Poi sale di nuovo e prende un altro bambino. Quattro volte. Questa donna che ha problemi a camminare. Sicuramente per voi è stata una grande azione da eroi. Disgraziata. Sapete cosa è successo? Il marito che negli ultimi anni è stato distante e freddo con lei la vede di nuovo bella. Ha visto questa grande azione quella notte e di nuovo l'ha amata. Presto lei ha aspettato di nuovo un bambino ma dopo tre mesi ha perso il figlio in modo naturale e poi è morta. La grande azione ha portato la morte. Il signore finisce di parlare. Tutti gli altri dicono che non è vero, non ha ragione, che di sicuro è morta perché è malata. Il signore con la barba però è sicuro. E se la signora non muore il figlio nasce, non è bello avere un figlio in più se non può camminare. Già per questo è una disgrazia. E poi secondo voi il figlio che nasce grazie all'amore del marito dopo il terremoto nasce per l'azione che ha fatto la signora quella notte? Sì, certo. E allora anche il figlio perso e la morte sono cose successe dopo quella grande azione. La signora è malata, questo è vero, ma la signora è già malata da molti anni. È morta perché ha fatto quella grande azione e quindi perché il marito ha visto lei di nuovo bella. Il giovane risponde, ma una madre non può lasciare i figli in casa, non può vedere i figli morire. Che madre è? Su questo sono d'accordo. Secondo lei è una grande persona, anche per me, anche per voi e i figli sono vivi, ma lei è morta. Posso per questo motivo chiamarla disgraziata? Finisce di parlare per un attimo e poi continua dopo pochi secondi. Il male non è poi per quella signora. Lei è morta, hanno più dolore, più problemi quelli che sono vivi. Ma sapete perché vi dico questo? Sapete perché questa cosa mi fa arrabbiare? L'azione d'eroe dura molto poco, un momento. È un momento bellissimo, ogni uomo prende tutte le sue forze e le sue cose migliori e noi lo vediamo bello, forte, noi vediamo un eroe, ma la vita è un'altra cosa. Che cos'è la vita? Tante cose brutte o semplici che noi dobbiamo fare ogni giorno. Per questo ci piace l'azione eroica, perché dimentichiamo le cose di ogni giorno. Continua il signore con la barba, continua a parlare. Io sono professore all'università, oggi mi hanno detto quello che mi dite voi, quello che dico e scrivo non va bene, non è vero. Vedete fuori queste città? Questo terremoto? Quindici anni fa c'è stato un altro terremoto a Reggio Calabria. È stato un terremoto meno brutto, ma in quel momento la paura è stata tanta. Abbiamo visto i tetti delle case aperti e un secondo dopo chiusi, come gli occhi. Vi racconto quest'altra storia, anche questa storia è vera. Io ho abitato a Reggio Calabria, sono un professore di filosofia e ho vissuto per molti anni in una stanza insieme con due vecchi signori, la loro figlia vedova e i suoi tre bambini. Quando è arrivato il terremoto ho sentito subito tanta paura, poi ho sentito i tre bambini piangere. Ho avuto anche io il mio momento da eroe. Con le scale distrutte io sono passato dalla finestra su un tetto e poi su un altro tetto più basso e poi a terra. Per prendere sei persone e portarle con me ho portato fuori una persona alla volta, un'altra e poi un'altra con l'aiuto di Dio. Cinque volte. Prima i bambini, poi la mamma. Alla fine è stato il momento più duro con i vecchi genitori. La vecchia signora ha provato a scendere da sola, è caduta, si è fatta anche male, ma poi tutto è andato bene. Quindi il terremoto finisce e grazie a me una bella famiglia è viva. Sono un eroe e la mia vita da eroe dura tre mesi. Sono professore e mi danno una delle prime piccole case di legno per vivere. Naturalmente porto insieme a me anche quella famiglia e naturalmente loro tutti mi vogliono bene. Anche la mamma dei tre bambini, sola ma ancora giovane e bella. Mi sento bene, forte. Un'emozione bellissima. Sono disgraziato? Sì, perché quel terremoto è finito, è finito anche questo di Messina, ma la mia vita ora è un terremoto. Il finale di questa storia. Sono ora padre di tre bambini che non sono miei, sono padre di cinque bambini che sono miei, otto figli, poi la moglie, poi il vecchio, poi la vecchia, undici persone in casa, undici persone che devono mangiare, più io. Quel terremoto è finito, ma la mia vita è ora un terremoto che non finisce più. Ma sono stato un eroe e ora dicono che non ho ragione, che lavoro male perché penso male. Qualche volta cerco di pensare in modo diverso, tornare il professore giovane di 15 anni fa. Ma in questi momenti arriva subito la vecchia signora. Ancora è arrabbiata con me perché ho salvato prima gli altri. Si avvicina a me con la faccia cattiva e mi urla, terremoto, terremoto, terremoto. I miei studenti lo hanno saputo. E ora sapete come mi chiamano? Il professor terremoto. Capitolo 5. La giara. Anche quest'anno gli alberi sono pieni di olive, anche se l'inverno è stato brutto. Zirafa ha tantissimi alberi di olive ed è contento. Ha cinque giare vecchie per tenere l'olio. Probabilmente pensa non bastano per tenere il tanto olio di questa stagione. Ha preso una giara nuova a Santo Stefano di Camastra, alta quasi quanto una persona. È più bella e più grande delle altre cinque. Naturalmente ha litigato anche con la persona che gli ha venduto questa giara, ma Zirafa nella sua vita ha litigato con tutti, anche per cose semplici, piccole. È quasi povero per tutti i soldi pagati per un processo. Il suo avvocato lo vede due o tre volte a settimana. È stanco di vederlo e gli ha regalato un piccolo libro con tutte le leggi, così può vedere da solo se può fare un processo contro questo o quel signore. Ora quando litiga con una persona ridono e gli dicono prepara l'asino, perché di solito Zirafa poi parte e va in città dall'avvocato e lui risponde certo e sono dolori per voi figli d'un cane. I contadini di Zirafa iniziano poi a cogliere le olive. Il terzo giorno due uomini, mentre lavorano, passano vicino alla giara nuova e si a vederla. E così vedono che la nuova bellissima giara presa da Zirafa a Santo Stefano e pagata tanto, quattro soldi, è divisa in due parti. Qualcuno l'ha rotta con un coltello. Guardate, guardate! Chi è stato? Oh mamma mia! E che fa ora Don Lollò? La giara nuova, che sfortuna! Uno per paura vuole andare via e non dire nulla, ma l'altro risponde. Sei matto? Con Don Zirafa! In questo modo pensa che abbiamo rotto noi la giara. No no no, tutti fermi, qua! E comincia a chiamare. Don Lollò! Ah! Don Lollò! Arriva Don Zirafa, nervoso, veloce, sempre impegnato e naturalmente sempre arrabbiato. Vede la giara e come prima cosa prende i due contadini e li butta con forza contro il muro. Ah! Adesso la dovete pagare! Poi lancia il cappello, comincia a camminare velocemente. Una giara nuova! Quattro soldi! Chi l'ha rotta? Quando? Come? Quando comincia a essere un po' più calmo, i contadini gli dicono che può ancora riparare la giara. C'è un signore molto bravo, Zidima Likasi, che ha fatto una sua colla e quindi grazie a lui e alla sua colla la giara può di nuovo essere come nuova. Prima Don Lollò dice di no, poi però cambia idea e la mattina dopo, all'alba, arriva Zidima Likasi. Ha con lui un sacco con tutti gli attrezzi per sistemare la giara. È un vecchio magro e storto, sembra un albero di olive e anche molto silenzioso. Per avere una sua parola uno deve andare a prenderla direttamente dentro la bocca. Sembra anche un po' triste, forse perché non è ancora famoso come merita, grazie alla sua colla. Zirafa lo guarda a lungo, non è sicuro. Vediamo questa colla. Zidima senza parlare con le mani fa segno di no. Poi dopo qualche secondo dice, la vede al lavoro sulla giara. Puoi fare un buon lavoro? Zidima mette a terra il sacco con le cose, prende dei vecchi piccoli occhiali e li mette. E a quel punto guarda Zirafa e dice, serio? Certo. Però solo con la colla non può andare bene. Metti anche del ferro. Me ne vado, risponde tranquillo Zidima mentre prende il sacco con le cose. Ma Don Lollò gli prende un braccio e lo ferma. Ma dove vai? Ma guarda, chi pensi di essere? Carlo Magno? Brutto pezzo di asino. Io devo mettere l'olio qui dentro? Una rottura così grande solo con la colla? Voglio anche il ferro. Mastici e ferro. Pago io. Decido io. Zidima chiude gli occhi e le labbra per non parlare. Le parole di Zirafa non gli sono piaciute. Ecco un'altra persona che non crede alla sua colla. E anche questa volta non può fare un buon lavoro. Pulito. Prova di nuovo. Se la giara non è come nuova, non mi interessa. Il ferro. Pago ferro e colla. Quanto costa? Allora, se solo con la colla. Oh che testa, non mi capisci? Il ferro. Ho detto che voglio anche il ferro. Ci vediamo allora quando hai finito. Non posso più perdere tempo con te. Zidima inizia a lavorare. Ma non è contento. Sta tra le due parti della grandissima giara e inizia a chiuderle. Ogni volta che deve mettere un po' di ferro dice una brutta parola. Poi dice al contadino dopo che ha messo la colla. Senti come suona? Come una campana anche se io sono dentro. Guarda com'è nuova anche senza ferro. Zidima purtroppo non sei tu che comandi. Metti il ferro. E Zidima inizia a mettere il ferro nei buchi. Dopo un'ora di lavoro Zidima ha finito e... Ora aiutami ad uscire dalla giara. Ma la giara è larga al centro e stretta in alto. Zidima, nervoso, dopo quello che gli ha detto Zirafa, non ha fatto attenzione. E ora prova e prova ancora ma non riesce ad uscire dalla giara. E il contadino non lo aiuta. Solo ride come un matto. Ora la giara che lui ha fatto ritornare nuova deve essere rotta di nuovo per farlo uscire. Arriva anche Don Lollò. All'inizio non crede a quello che vede. Ma come? Là dentro. Si è chiuso dentro? Si avvicina poi alla giara e grida... Aiuto! E che aiuto posso darti? Dio, stupido vecchio! Perché non hai visto prima che la giara è stretta in alto? Proviamo di nuovo. Prima metti fuori un braccio. Così. E ora la testa? No! Più piano! Più piano! No! Aspetta! Giù! Giù! Ma com'è il fatto? E la giara adesso? Calma! 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 Guarda gli altri e urla... Calma! Ma è lui che non è calmo. Come sempre Zirafa urla... Preparate l'asino! Intanto batte la giara con le dita. Suona come una campana. Bella! Sembra nuova! Aspetta! Dice a Zidima. Questa è una cosa nuova. Devo sentire l'avvocato. Vado e torno. Tu stai calmo. Ora faccio subito quello che devo fare e ti pago il lavoro. Cinque lire, va bene? Non voglio niente. Voglio uscire. Sicuro. Però adesso ti pago. L'avvocato è libero ma Zirafa deve aspettare perché l'avvocato continua a ridere. Poi alla fine gli dice cosa deve fare. Lui non può restare lì dentro. La legge dice che deve tornare libero. Così perdo la giara perché si rompe e lui deve darmi i soldi della giara. Giusto ma i soldi della giara come è adesso non come l'avete presa voi. Perché? Perché è rotta. Rotta? No ora è perfetta anzi meglio che perfetta. E lo dice lui non io. Allora fate così. Chiedete a lui prima quanto ha il valore della giara adesso. Bacio le mani dottore. E Don Lollò torna a casa contento. Quando è di nuovo a casa vede una cosa strana. Tutti ridono e fanno festa. Anche Zidima che ora è molto calmo. Zirafa guarda dentro la giara e gli dice. Ah stai bene lì dentro? Benissimo. È fresco. Meglio che a casa mia. Sono contento. Intanto vi dico che ho pagato questa giara quattro soldi. Ora secondo te quanto vale? Con me dentro? Chiede Zidima e tutti i contadini ridono. Silenzio. Allora o la tua colla non è buona e tu non mi hai detto la verità oppure la tua colla è buona e allora la giara ha un valore. Quale? Dimmi tu. Rispondo. La colla è buona e basta per fare la giara come nuova ma tu mi hai detto di mettere il ferro. Per questo motivo io sono qui dentro ora e per questo motivo la giara vale ora molto meno. Un soldo e 33. Per me va bene. Mi devi dare un soldo e 33. E perché? Rompo la giara per farti uscire e tu dice l'avvocato mi devi dare il valore che la giara ha adesso. Io pagare? Ma io non voglio uscire. Prende dalla tasca una pipa e comincia anche a fumare. Don Lollò non sa che fare. E adesso? Non vuoi uscire dalla giara? Non va bene perché così non posso usarla. Va bene invece se tu mi fai uscire io esco. Non voglio restare qui ma pagare? No. Don Lollò prende la giara con le mani e la muove con forza. Vedi che buona colla? Don Lollò è molto molto arrabbiato. Va bene stai lì dentro. Muori di fame lì dentro. E va via. Non ricorda che ha dato 5 lire a Zidima. Zidima dà le 5 lire ai contadini e organizza una bella festa. La sera tutti mangiano, bevono e cantano. Anche Zidima dentro la giara. La notte i canti svegliano Don Lollò. Va a vedere cosa succede e quando vede il vecchio dentro la giara cantare allegro non riesce più a stare calmo. Corre verso la giara, dà un calcio e la giara va contro una pianta di olive e si rompe. Zidima ha vinto. Capitolo 6. L'Ave Maria di Bobbio. Marco Saverio Bobbio è il notaio più famoso di richieri. È sempre a lavorare ma quando è libero gli piace studiare filosofia. Ha letto tanti libri di filosofia, vecchi e nuovi, tanti anche due volte. Purtroppo Bobbio ha spesso un problema con i denti. Ma questo non è un male terribile. Secondo lui il male di denti è la cosa migliore per uno che ama la filosofia e tutti i grandi filosofi hanno avuto denti malati. Schopenhauer sicuramente tanti. Il male di denti è lo studio della filosofia. Piano piano Bobbio non ha creduto più in Dio. Ma conosciamo di noi solo una piccola parte, il resto non lo conosciamo. Facciamo una cosa, pensiamo una cosa e non sappiamo perché. Forse lo abbiamo imparato tanti tanti anni fa da bambini e ora lo facciamo e basta senza pensare. Per tanti anni Bobbio da bambino è andato ogni giorno a messa con la mamma nella piccola chiesa di Badiola al Carmine e ancora oggi ogni sera quel bambino dice le preghiere anche se forse il notaio non lo sa. E un bel giorno il signor Bobbio lo capisce. Durante l'estate è in vacanza in una sua casa di campagna vicino a Richieri. La mattina va in città per lavorare e torna a casa la sera. La domenica però non lavora e passa il giorno insieme ad amici e parenti. Le donne preparano il pranzo, gli uomini vanno a caccia o giocano a bocce. È divertente vedere Marco Saverio Bobbio molto alto e grasso mentre gioca a bocce. La moglie lo guarda da lontano e gli dice Marco stai attento, non fare troppa fatica e non fare starnuti. Se Bobbio fa uno starnuto infatti, subito dopo, quando tutto quel grande corpo torna normale, ecco che all'improvviso arriva anche un dolore. Ha un braccio, ha una gamba, la testa, ma soprattutto ai denti. I denti sono il grande problema e la grande tristezza di Bobbio. Ne ha tolti già cinque, sei, forse anche di più. Una domenica arriva il cognato con tutti i suoi parenti e i parenti della moglie. Tante persone e tanta allegria e poi all'improvviso ecco il mal di denti. Doloroso, forse più del solito. Bobbio si alza e dice agli altri, non vi preoccupate per me, cominciate tranquillamente a mangiare. E se ne va, con la mano sulla bocca e una faccia piena di dolore. Dopo un'ora ritorna, non può più resistere. Il dolore è fortissimo, vuole battere la testa sul muro. Gli altri si alzano, vogliono andare verso di lui, ma a sedere, a sedere, oddio, non potete aiutarmi, ma non posso parlare, andate a preparare il carro. Vado a richieri, vado a togliere il dente. Alcuni vogliono andare con lui, ma a sedere, a sedere, non posso sentire parlare, non posso sentire nessuno, devo stare solo. Bobbio alla fine sale sul carro e parte. Sente un dolore sempre più forte. A un certo punto il filosofo Bobbio sente tanto amore per il pover uomo Bobbio e per il suo dolore. Il carro passa vicino ad una semplice immagine di una madonna. Bobbio ha tanto dolore che non sa più quello che fa e all'improvviso, senza pensare, prega. Ave o Maria. E all'improvviso non sente più nulla, non sente più nulla dentro di lui e fuori, intorno a lui, un silenzio dolce, molto dolce. Toglie la mano dalla faccia e resta fermo ad ascoltare questo silenzio. Oddio, ma com'è? Non ha più mal di denti. Veramente non ha più nessun dolore, come per miracolo. Ha detto una preghiera, l'Ave Maria e... Sì, sì, è proprio vero. Non ha più dolore, solo per quella preghiera, che ha detto senza pensare, come una femmina, come la mamma. E adesso, mentre ritorna alla sua casa, Marco Saverio Bobbio comincia a pensare. Quello che è successo non gli piace per niente. Come ho potuto io dire l'Ave Maria? Come è possibile che il mal di denti è finito grazie all'Ave Maria. E io ho avuto questo miracolo e non credo e continuo a non credere in Dio. Forse non è giusto. E per questo, forse ora il mal di denti ritorna. Ma il mal di denti non ritorna. E Bobbio arriva a casa. Mentre ride, dice a tutti. Niente. All'improvviso il dolore è finito per strada, davanti alla Madonna. È finito da solo. Alcuni anni dopo, Bobbio si ricorda di questo fatto quando un pomeriggio è nel suo studio e legge gli esseri di Montaigne. Legge il capitolo ventisettesimo, dove Montaigne parla di miracoli. Bobbio legge, non è d'accordo e ride, ma non è tranquillo e tocca il dente con la mano. Continua a leggere e continua a ridere e a non credere alle cose che legge. Eh già, questo Sant'Agostino dice che ha visto un cieco tornare a vedere, una donna cartagine quasi morta, che poco dopo sta benissimo, grazie a un segno della croce. Sant'Agostino può anche dire che Marco Saverio Bobbio, famoso notaio a richieri, non ha più avuto dolore dopo un'Ave Maria. Mentre dice questo, tocca ancora più forte il dente con la mano e il dente gli fa male. E anche tanto, di nuovo. Bobbio si alza e comincia a camminare nella stanza. Si tocca il dente, lo guarda, ma il dolore è sempre di più. Ma non va bene aspettare così senza far nulla. Il dolore non deve vincere. E allora prende un po' di forza, siede, riprende il libro e legge, di nuovo. Ancora miracoli. A un certo punto Bobbio ride di nuovo e... Ah, che dolore! Vediamo un po'. Montegna e Sant'Agostino sono qui e possono vedere tutto. Vediamo se il dolore finisce anche stavolta. Chiude gli occhi e comincia a pregare. Sempre l'Ave Maria, questa volta in latino. grazia plena, dominus tecum. Amen. Apre gli occhi, tocca il dente per sentire se il dolore c'è. E il dolore c'è ancora, anzi... Ai! È sempre più forte, terribile! Oh Maria! Oh Maria! E Bobbio sta zitto all'improvviso. Ha capito una cosa. Deve chiedere aiuto a Maria in modo vero. Quest'ultima frase non è stata sua. È uscita dalla sua bocca, ma non è stato lui a dirlo. E subito... Ecco. Eh sì. Il dolore. Il dolore non c'è più. È finito. Possibile? Di nuovo? Montegna, Sant'Agostino. Possibile che il dolore è passato di nuovo? Ah no, eccolo, eccolo. Aiaia! Quello che è successo non va bene. Non può andare più bene al notaio. Filosofo e non credente Marco Saverio Bobbio. Mette il cappello, tiene la mano sulla bocca e il nervoso esce e va a cercare subito un dentista. Non sa se durante il viaggio ha di nuovo detto l'Ave Maria. Forse sì, forse no. Comunque, quando arriva davanti alla porta del dentista, il dolore è finito. Un'altra volta. Un amico lo chiama. Signor notaio! Oè! E che fa lì? Io? Niente. Ho un dente che mi ha fatto male. L'è passato? Già. Da solo. E lo dice così? È così tranquillo? Grazie a Dio. Bobbio lo guarda con una faccia che sembra un cane cattivo. Per niente. Perché grazie a Dio? Vi ho detto da solo. Forse ora mi torna il dolore. Tra un momento. Ma sapete che faccio adesso? Non mi fa male più. Ma mi faccio togliere il dente lo stesso. Mi faccio togliere tutti i denti. Uno dopo l'altro. Proprio adesso. Non deve più succedere una cosa come questa. Via tutti i denti. E così, mentre l'amico ride, Bobbio entra nervoso e cattivo per la porta del dentista. Capitolo 7. Male di luna. Batà è seduto in mezzo a un campo di grano. Sidora, sua moglie, è seduta davanti alla porta di casa, un po' lontano da lui. Ogni tanto lo guarda con gli occhi quasi chiusi. Fa caldo, molto caldo, in questa estate di Sicilia. Sidora guarda lontano. Dopo i campi di grano già tagliato, dopo le colline, vede il mare azzurro. È quasi il momento del tramonto e forse il mare manda un po' di vento, un po' di aria per poter respirare. Lui continua a guardare solo per terra, in silenzio, chiuso a pensare. Sicuramente sta male per un motivo, ma Sidora non sa quale e così ha sempre più paura. A cosa pensa Batà? Sidora e Batà sono sposati solo da venti giorni e lei si sente già finita, triste, vuota. A volte immagina che non è vero niente, che è un brutto sogno, venti giorni fa è arrivata qui, in una fattoria, lontano da tutto e da tutti, senza un albero, senza ombra, un deserto. Da venti giorni ormai il suo corpo è di Batà, un uomo che ha venti anni più di lei, che non parla mai e che sembra ora molto più triste di lei. La mamma ha parlato alle altre donne del paese di Sidora, di Batà e del matrimonio. Batà? No, non voglio una persona come lui per mia figlia, dicono le altre donne. La mamma non ascolta. Loro dicono questo perché lui ha tanta terra e quindi ha ricchezza e questa fortuna ora è per Sidora. E poi nessuno ha detto una vera cosa brutta su Batà, anche se nessuno ha detto mai una cosa bella. Le persone del paese non lo conoscono, non sanno cosa fa, come vive, perché lui è sempre solo, nella sua terra, tra gli animali, due asini e il cane da guardia. Sicuramente è una persona molto strana, ma la mamma ha deciso. E ha deciso anche per un altro motivo, forse più importante. A Sidora piace Saro, un suo cugino, sicuramente più bello, più giovane, più divertente di Batà, ma Saro non ha voglia di lavorare, è sempre fuori con i suoi amici, è il tipo di ragazzo che non piace alla mamma. Qualche volta Sidora pensa ancora a lui. Saro forse può essere un cattivo marito, ma che marito è quello che ho adesso? I problemi, anche di soldi, che posso avere con Saro, sono meglio della tristezza, della paura che ho per Batà. All'improvviso Batà si muove, si alza, ma subito dopo si sente molto male, le gambe si piegano. Dalla bocca esce un suono strano, più di un animale che di un uomo. Sidora corre verso di lui, ma Batà, senza parlare, con una mano le dice di fermarsi. Batà tiene le mani sul collo, ha la bocca aperta, la faccia è bianca, piena di paura, la paura di un bambino. Poi alla fine parla, ma la voce non è più sua. Vai dentro la casa, chiudi bene la porta, non avere paura. Se voglio entrare, se urlo, se batto contro la porta, non fare nulla, non aprire e... e non avere paura. E ora vai, vai. Ma che hai? Urla Sidora. Batà urla di nuovo, con il braccio indica il cielo e... la luna. Sidora, mentre corre per entrare subito in casa, vede infatti una luna rossa, piena, grandissima. Ora Sidora è dentro la casa, sicura. E ascolta. Sente urlare da fuori e non sembra più Batà. Non è più un uomo, ma un animale. Sembra un cane cattivo e arrabbiato. Batte verso la porta, con le mani e con la testa. È sempre meno uomo, sempre più animale, sempre più cattivo. Aiuto, aiuto! Grida lei da dentro la casa. Ma sa che là nessuno può arrivare ad aiutarla, nessuno può sentirla. Aiuto, aiuto! Grida mentre tiene la porta. È chiusa benissimo e lei lo sa, ma quella cosa là fuori sembra così forte. Comincia a cercare qualcosa nella casa, qualcosa per difendersi. Mentre cerca, vede la luna salire nel cielo, bella e piena di luce. Ma anche a Sidora, la luna porta dolore e male. La ragazza cade a terra. Quando riprende i sensi, non ricorda subito cosa ha fatto e perché è lì nella stanza. Poi vede la porta chiusa e ricorda tutto. E ha di nuovo paura. Paura anche del silenzio. Fuori, infatti, non si sente più niente. Poi sente un respiro forte, malato. Prende un vestito e piano piano apre la porta. Vede che Batà è lì fuori, anche lui a terra, sembra quasi morto, con bocca e braccia aperte. Il suo cane è lì, vicino a lui. Sidora esce lentamente, chiude la porta e corre, corre in paese, dalla mamma. Arriva in paese poco prima dell'alba ed entra subito a casa, piena di paura. La madre la vede in quel modo, con quella faccia, quei capelli, a quell'ora. Chiama subito le altre donne che abitano vicino a lei. Sidora comincia a piangere e a tirarsi i capelli per la disperazione. Non riesce a parlare, a dire alla madre cosa è successo, perché ha così tanta paura. E poi, il male di luna. Il male di luna. Il male di luna. La madre e le altre donne hanno ora il terrore negli occhi, una paura antica e quasi senza nome. Sembra un lupo, eh? Batte sulla porta. L'abbiamo detto noi, quell'uomo non è naturale, ha qualcosa che non ha mai detto. Non è un uomo che può avere una moglie. Gesù, che paura! Povera ragazza. La madre è seduta sulla sedia, non ha la forza per alzarsi e dice, quasi come un canto triste, «Ah, figlia mia! Ah, figlia mia! Ah, povera figlia mia!» Molto più tardi al tramonto arriva Batte e porta con lui due asini. Batte ancora la faccia stanca e molto triste. Le donne lo vedono e subito rientrano dentro la porta delle loro case. Poi restano a guardare. La madre di Sidora invece resta sulla porta e molto arrabbiata urla, «Vai via! Vuoi ancora venire in questa casa? Via! Via da qui! Che vita brutta hai dato a mia figlia! Via di qua!» La madre continua a urlare contro quell'uomo per molto tempo. Sidora invece piange e chiede alla mamma di non farlo entrare. Batte ascolta con la testa bassa, senza dire nulla. Sa che è una colpa grande. Non ha detto nulla sul suo male di luna. Le altre donne vedono quella faccia e le sue lacrime, così non hanno più paura, ma sono invece un po' tristi. Escono di casa e gli vanno vicino. Batte racconta loro la sua storia, racconta perché è malato. Tutto è iniziato da piccolo, una notte, con la madre al lavoro su un campo e lui vicino a lei. Per tutta la notte è stato davanti alla luna, contento, come in un gioco. Ma la luna ha lasciato questo segno dentro di lui. Ha questo male ogni volta che la luna è piena. Ma è un male solo per lui. Lo sente quando arriva. Gli altri hanno il tempo di chiudersi in casa. «Sidora ha molta paura. Mi dispiace. Possiamo fare così. Il giorno prima della luna piena, la mamma può stare con lei», dice Batte a Sidora ancora chiusa in casa. «Chi? Mia madre. Ora anche mia madre deve morire per la paura. Sei matto?» Sidora lo guarda e urla. Nei suoi occhi c'è solo tanto odio per lui. La madre le dice di stare zitta, poi lei esce a parlare con Batte. Lui ascolta e poi parte e torna a casa. La madre ritorna da Sidora e le dice cosa vogliono fare. «Quando c'è la luna piena, Saro e Dio veniamo su a casa vostra?» «Saro, che significa? Perché lui?» «L'ho detto io, zitta». Mentre lo dice nasconde una piccola risata. «È l'unico maschio che abbiamo in famiglia. È l'unico che ci può aiutare». La mattina dopo Sidora torna a casa da Batte e per 29 giorni pensa solo a Saro e alla prossima luna piena. Guarda la luna che cresce e Batte, triste, le dice «Non avere paura, c'è ancora tempo». Arriva la notte della luna piena. La madre arriva a cavallo con Saro due ore prima della notte. Batte è già in mezzo al campo, lontano. La madre entra in casa con Saro e Sidora. «Tu sei uomo», dice a Saro, «e tu sai già cosa succede», dice a Sidora. «Io sono vecchia e ho molta paura e sto qui in quest'altra piccola stanza. Mi chiudo bene e lui può fare il lupo come vuole». Saro rimane seduto vicino a Sidora sul letto. Gli occhi vivi di lei cercano in ogni momento di chiamare il cugino. Il ragazzo ha quasi più paura di quegli occhi e meno paura di Batte. Però quando la luna è piena e sente i primi strani suoni da fuori, è il primo a correre a controllare se la porta è chiusa bene, pieno di terrore, mentre Sidora gli dice quasi arrabbiata con lui «Piano, piano, guarda che non è niente». Fuori Batte ormai è già più lupo che uomo e dentro Saro sembra l'unica persona che ha paura. «Non è niente». Sidora ride, vuole abbracciarlo, non può stare ferma. «È matta quella donna là!» Mentre il marito fuori grida come un animale, lei dentro, sul letto, non pensa nient'altro che al cugino. «Saro, Saro!» Saro è così sorpreso e arrabbiato che decide di aprire la porta della piccola stanza dove la madre, la prende per un braccio e la spinge sul letto con la figlia. «Sidora è matta!» E improvvisamente vede che da una piccola finestra sopra il letto c'è la luna che guarda. Fa tanto male al marito fuori, ma ride dentro perché la moglie non ha avuto la sua vendetta. Capitolo 8. Ciaula scopre la luna. I minatori questa sera non vogliono più lavorare. Sono stanchi. Ogni giorno devono prendere tanto zolfo e devono metterlo in un grande carro. Il carro parte la mattina del giorno dopo e ritorna la sera vuoto. Il carro per partire deve essere pieno, ma oggi i minatori proprio non vogliono lavorare più. Cacciagallina è il capo. Sta all'entrata della miniera. Urla contro di loro. Devono continuare fino a quando il carro non è pieno. Anche una pistola. Gli uomini non devono uscire. «Indietro, indietro tutti! Andate giù di nuovo a lavorare fino all'alba. Oppure sparo!» «Boom!» risponde uno e ride. «Boom!» fanno piano piano tutti gli altri e ridono. Prima uno, poi un altro. Riescono tutti ad uscire. Escono tutti meno uno. «Chi?» «Si scarda. Perché è vecchio e perché ha anche perso un occhio. Non ha abbastanza forza. Si scarda. Cacciagallina va contro di lui come un leone. Lo prende. Gli urla «Indietro tutti!» ho detto. «Tornate sotto a lavorare oppure sparo!» Mentre parla, Cacciagallina continua a muovere il vecchio con forza, da una parte all'altra. Gli sembra di avere tra le mani tutti gli altri. Si scarda è tranquillo, non si muove. Povero Cacciagallina. È giusto anche per lui dare la colpa a qualcuno. E può essere solo un vecchio, debole, uno che non può fare nulla contro di lui. E poi anche si scarda uno sotto di lui, uno più debole. Ciaula, un ragazzo che lo aiuta per imparare il lavoro. Gli altri uomini camminano già verso il paese, come i tini, ridono e gridano da lontano. «Fai lavorare lui, Cacciagallina! Lui finisce il lavoro per noi!» «Sono giovani», dice Ziscarda in modo quasi dolce. Ha la testa da una parte, la bocca un po' aperta, la faccia un po' strana. «Cosa vuol dire quella faccia? Aspetta di vedere cosa vuol fare Cacciagallina? Pensa ai giovani che sono andati via!» Ah, i giovani vogliono sempre ridere, vivere. Questo luogo invece è triste. Non c'è erba, non c'è acqua, non ci sono piante. Ci sono solo tante, tante miniere, dove le persone lavorano in modo duro, tutto il giorno, senza luce, senza sole. Ma Ziscarda non pensa a loro e non pensa a Cacciagallina. Ha un occhio solo. Da quell'occhio qualche volta scende una lacrima e lui vuole sentirla in bocca. Quando lui è 200 metri sotto la terra, quando non c'è acqua, quando è stanchissimo, quella lacrima di sale è importante, è buona, è un po' di riposo. Così ogni volta che scende una lacrima lui si ferma, mette la testa da una parte e la lacrima entra in bocca. Alcune persone fumano, altre bevono vino, lui ha la sua lacrima. Ha le lacrime perché l'occhio è malato, non perché piange, ma Ziscarda ha anche pianto. Quattro anni fa è morto Calicchio, il suo unico figlio, sempre lì in miniera, e ora con il suo lavoro devono mangiare la moglie del figlio e i suoi sette bambini. Ancora oggi qualche lacrima è molto salata e allora lui si ferma un momento e dice Calicchio. Per questo lavora ancora ed è più bravo di un giovane. Finalmente Cacciagallina lo lascia e va a cercare gli altri. Ziscarda gli chiede, io resto qui ma qualcuno deve andare a casa mia a dire alla mia famiglia che io sto a lavorare, non devono aspettarmi e possono stare tranquilli. Poi subito dopo chiama il ragazzo che lo aiuta. Ciaula ha trent'anni ed è molto molto magro, tutti dicono che non capisce niente. Ziscarda lo chiama come una persona chiama una cornacchia. Te pa, te pa. Anche Ciaula ha finito di lavorare. Sta per tornare al paese, ha tolto il vestito per il lavoro e ha messo un vecchio abito che gli hanno regalato. È stato tanti anni fa, un abito molto bello. Ora è rotto e vecchio, ma Ciaula ancora è contento di metterlo. Gli altri ridono e dicono, quanto sei bello! Anche lui ride, è contento e quando ride fa un suono strano, sembra proprio una cornacchia. Per questo lo chiamano Ciaula. Ziscarda gli dice, oggi dobbiamo restare qui e lavorare tutta la notte. Va bene, risponde Ciaula e cambia il suo abito. Per tutti, anche per Ziscarda, è sempre notte, perché nella miniera non c'è il sole. Ma il lavoro di Ciaula è un po' diverso. Lui prende un sacco di zolfo e lo porta fuori. Quanta fatica ogni viaggio, da sotto a sopra, con il sacco pieno di zolfo sulle spalle. Alla fine di ogni viaggio, Ciaula può vedere il sole e subito ha problemi dopo tanto tempo al buio. Poi, minuto dopo minuto, vedere il sole gli piace sempre di più. Ma Ciaula è strano. Non ha paura del buio della miniera. Si sente sicuro lì dentro, come nella pancia della madre. Non ha paura del buio quando è giorno, ha paura del buio quando è notte, perché non lo conosce. Ogni sera, prima della notte, torna a casa con Ziscarda, mangia il poco che ha per cena e poi va subito a dormire. Ha avuto paura quando è morto il figlio di Ziscarda. Quel giorno Ciaula è stato sottoterra per tanto tempo e quando è uscito da solo, non ha trovato il sole, come sempre, ma la notte. Ha cominciato a camminare, ma le solite cose che una persona vede ogni giorno, le case e gli alberi, di notte sembrano molto diverse. Ciaula, allora, ha cominciato a correre e non si è fermato fino a casa sua. Ora Ciaula è con Ziscarda, aspetta di portare su il sacco pieno di zolfo. Gli altri non ci sono più, tutto è silenzio e lui sa che fuori è notte e mentre aspetta comincia già ad avere paura. Il carico è pronto ora. Ziscarda aiuta Ciaula a mettere a posto il sacco. Ciaula ha paura e le gambe sono deboli. Basta, basta! Come basta? No, no, risponde Ziscarda e continua a mettere zolfo. Ciaula per un attimo pensa, forse il sacco è troppo pesante così non possa arrivare lassù fuori dalla miniera, ma quando Ziscarda finisce Ciaula comincia a camminare e vede che riesce a portare il sacco. Quando la salita comincia Ciaula ormai pensa solo al buio che c'è fuori e non pensa più al sacco che porta. La paura è più grande dopo ogni passo, dopo ogni metro, dopo ogni secondo. Di solito quando sente la fatica di salire su con questo peso, pensa alla fine, a quando arriva e lascia il suo sacco. Ma questa notte non ha questo piacere. Questa notte, quando la fatica finisce, è il momento di uscire nella notte, nel buio. È il momento più brutto. Ciaula vede il buco, l'entrata della miniera è vicina ora. Ma non è buio. Vede invece la luce, una luce che sembra argento. Pensa, forse non è ancora completamente notte. Ma passano alcuni minuti e quella luce d'argento è sempre più forte. Possibile? Alla fine esce. Lascia il sacco, guarda davanti a lui e apre le braccia. Che bella, che grandissima emozione. Davanti a lui, tranquilla, piena di luce d'argento, c'è la luna. Certo, Ciaula sa che c'è la luna in cielo, lo sa come sa altre cose, ma solo questa notte ha veramente visto la luna, dopo il buio della miniera, da solo, nella notte. Ed è felice. Eccola, eccola là, la luna. C'è la luna, la luna. Ciaula ha visto quanto è dolce la luna. La luna lo aiuta, lo fa sentire sicuro. Tiene lontano il buio della notte e piange. Capitolo 9. Pensaci, Giacomino. Il professore Agostino Toti ha 70 anni e non è un bel vecchio. Basso, testa grossa, senza capelli, niente collo, un corpo lungo e gambe piccolissime. Per questo lui sa che sua moglie Maddalena, che ha 26 anni, non può amarlo veramente. Lo sa, egli va bene. È vero, grazie a lui Maddalena ha una posizione migliore nella società. È nata molto, molto povera e ora è la moglie di un professore di scienze naturali all'università. Fra poco tempo poi il professore Toti finisce di lavorare e può avere una pensione molto alta. E non solo. Due anni fa un fratello è morto e gli ha lasciato tantissimi soldi, quasi 200.000 lire. Ma tutto questo non basta per una ragazza giovane e bella. E lui lo sa. Ha dato alla moglie la sua libertà. E non solo. Ha fatto del bene a lei, alla moglie, ma anche a lui. Giacomino, un ragazzo bello e bravo, ex studente del professore e senza un lavoro. Il professore ha messo le 200.000 lire in una banca e Giacomino De Lisi lavora ora in questa banca. C'è anche un bambino in casa. Un bel bambino di due anni e mezzo, figlio dell'amore di Maddalena e Giacomino. Il professore ama questo bambino. Finire la lezione e tornare a casa da lui è la parte più bella del giorno. Ha sposato Maddalena per dare a lei un bel futuro e l'ha amata sempre solo come un padre. Per questo ora pensa è giusto avere pace e felicità per tutti. Molte persone sono cattive e non capiscono la buona azione di Toti verso Maddalena, verso il bambino, verso Giacomino e anche verso lui stesso, che vuole avere una casa piena di vita e di risate. Le persone ridono quando il bambino lo chiama papà, ma lui non pensa alle persone cattive. Lui è felice. Purtroppo da tre giorni Agostino Toti non ha più in casa quella vita, quelle risate, quella pace che vuole. Che cosa è successo? Non lo sa. La moglie ha gli occhi rossi, piange sempre, ha un forte mal di testa e non vuole uscire dalla camera. Eh, giovani, dice il professor Toti. Lui sta con il bambino, Ninì, e cammina per casa triste e anche un po' arrabbiato perché non è chiaro quello che fanno i due ragazzi e non è giusto. I giovani hanno tanti giorni ancora da vivere, ma per un vecchio come lui ogni giorno è importante. E invece ci sono stati tre giorni di tristezza e questo, pensa il professor Toti, non è giusto. Cinque volte ha cercato di parlare con la giovane moglie, ma niente. Male? Stai proprio male? Maddalena continua a non dire nulla, a non parlare, però piange. Chiede in modo gentile ad Agostino di chiudere la finestra, di andare via con Ninì e di lasciare lei sola, al buio. La testa, eh? Il problema che Maddalena ha con Giacomino deve essere grande. Agostino va in cucina e cerca di sapere qualcosa dalla domestica, ma anche lei non gli dice niente. A questo punto il professor Toti prende una decisione importante. Porta Ninì dalla mamma e gli chiede di prepararlo per uscire. Perché? Andiamo fuori, risponde lui. Oggi è festa. Qua non sa cosa fare, povero bambino. A Maddalena non piace quando Toti esce insieme al bambino. La gente cattiva ride, ma il marito ha deciso. Lui e il bambino escono. Il professor Toti va insieme al bambino a casa di Giacomo Delisi. Apre la porta la signora Agata, la sorella di Giacomino. Alla sorella non piace Agostino Toti. Quello che ha fatto con Giacomino, la moglie e il bambino, secondo lei, è quasi un'azione del diavolo. Ma come? Scusi, ma viene anche qui a cercare Giacomino? E poi con il bambino? Ha portato anche il bambino? Il professore non sa cosa dire. Non sa perché la sorella di Giacomino è così cattiva con lui. Perché? Non posso? Non posso venire a... Non c'è, dice Agata senza perdere tempo in modo duro. Giacomino non c'è. Va bene, ma lei signora, mi scusi, perché è sempre così dura con me? Non credo di aver fatto del male a lei o a suo fratello. Professore, noi dobbiamo solo ringraziarla, lo so, ma anche lei deve capire la nostra situazione. Sono vecchio, signore, capisco tante cose. La prima cosa che capisco è questa. Se uno è arrabbiato per qualcosa, la cosa migliore è parlare in modo aperto. Ho ragione? Certo, sì. E allora posso entrare e può chiamarmi Giacomino, per favore? Ma non c'è. No, non mi deve dire che non c'è. Giacomino è in casa e lei, per favore, deve chiamarlo. Poi parliamo, lui e io, con calma. Posso entrare e aspettano in una stanza. Toti sa che Agata ha bisogno di tempo perché Giacomino non vuole vederlo e in quel tempo pensa, che cosa può aver fatto di così brutto Maddalena? È così buona e invece anche la sorella di Giacomino è arrabbiata. Alla fine arriva Giacomino. Dio, che faccia strana e stanca. Il bambino corre incontro al padre. Giamì, Giamì! Ma Giacomino non dà attenzione al bambino e questo fa male al professor Toti. Giacomino. Che vuole, professore? Sto male, sono a letto, non ho ancora la forza di parlare e vedere qualcuno. E infatti non vuole guardare Toti negli occhi. Ma il bambino? Ecco, Giacomino si abbassa e bacia Nenì. Ti senti male? Chiede il professore. Io sono venuto proprio per parlare e capire perché. Il direttore della banca agricola ti ha detto qualcosa? No, perché? Perché ieri sera ho parlato di te con lui. Non prendi molti soldi e sai bene che una parola mia può aiutarti. Professore, io la ringrazio, ma le chiedo per favore di non fare più niente per me. Ah, bravo. Non abbiamo più bisogno di nessuno, eh? Ma se io voglio invece farlo solo per mio piacere. Ai vecchi piace vedere che i bravi giovani vanno avanti nella vita e... Giacomino piange con la faccia tra le mani. Il professore lo vede e anche il figlio. Giamì, bua! Il professore si alza, vuole abbracciarlo, ma Giacomino non vuole. Deve stare lontano da me, professore. Per favore, deve andare. Non è giusta questa generosità verso di me. Non sono una persona così buona. Per piacere deve andare. Lei è il bambino e mi deve dimenticare. Una brutta sorpresa per il professore. Ma perché? Perché, professore, io mi sposo. Una bruttissima notizia per Todi. Tu ti sposi. Quasi non ha la voce per parlare. Si siede, si mette la testa tra le mani. Ecco cosa è successo. Ma quando? Come? Senza dire niente. Mi sposo con una povera ragazza, senza padre e madre, come è me, un'amica di mia sorella. Il professore guarda Giacomino con occhi spenti, la bocca aperta, e non riesce a parlare. E... e lasci tutto, così. E non pensi più a niente, a nessuno. Io sono una persona libera. Lei vuole prendere la mia libertà? Io? Prendere la tua libertà? Questo non è giusto, Giacomino. Tu puoi fare quello che vuoi. Casa mia e casa tua. Io ho 70 anni. Fra poco tempo non ci sono più. Che problema posso essere io? Sono un vecchio che vuole solo lasciare una bella famiglia. Io non conosco questa tua nuova ragazza. E di sicuro una brava ragazza, perché tu sei buono. Ma a casa tua hai già tutto. Perché vuoi sposarti? Professore, ma quello che vuole lei non può continuare. Le persone ridono. Ah, il problema sono le persone. Insomma, basta, dice Giacomino molto arrabbiato. Lei non deve pensare più a me. Ci sono tanti giovani che hanno bisogno di aiuto. Queste ultime parole non piacciono proprio al professore. Maddalena è giovane, ma è brava. E tu lo sai. Maddalena può morire, perché il suo male è qui, nel cuore. Secondo te lei può domani tornare ad essere contenta e felice con questo bambino? Tu la rovini. Come può dire queste cose? Ma parla seriamente. Toti guarda il bambino e comincia a piangere disperato. Nini lo vede e piange anche lui. Ah, povero Nini, questa è la rovina. La tua povera mamma. Oh, povero bambino. Poi alza gli occhi e guarda Giacomino. Piango perché ho sbagliato. Io ti ho portato in casa. Ho parlato sempre bene di te. Per colpa mia, Maddalena ha imparato ad amarti. E ora, ora che lei ti ama, si cura di questo amore, madre di questo bambino, tu... Ma lei parla seriamente, professore. Toti si ferma un attimo e poi... Basta, Giacomino. Ho deciso. Ora vado con questo bambino nella casa della ragazza che vuoi sposare e le racconto tutto. Cosa? Ma vuole far ridere la gente, risponde Giacomino spaventato. Far ridere la gente? E cosa mi importa? Io penso a Maddalena, quella povera ragazza, al bambino, anche a te. Vieni, Ninì, andiamo. Giacomino vuole fermarlo e si mette davanti alla porta. Lei non può fare questo. Certo che lo faccio, dice sicuro e freddo il professor Toti. E per non farti sposare quella ragazza, posso anche parlare con il direttore della banca, così lui ti toglie il lavoro. Ti do tre giorni di tempo. E prima di andare, si gira, guarda di nuovo Giacomino con il bambino in mano e gli dice, pensaci Giacomino, pensaci. Mi sento una bolla.